e allora signori è giunto il momento di fare un applauso agli sposi e consiglio un applauso anche per il testimonio del matrimonio il matrimonio come il classico parlo del discorso, il primo eco del discorso non voglio che ci credo, ma pure senza una ragione, senza via di riuscire in posti nel mare il padrone, l'altro gravi e naturalmente faccio un applauso ad Alessandra e a Francesca gravi 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!